ed eccoci qua per un altro unboxing vediamo cosa abbiamo qui oggi questa cosa del vetro molto facile da utilizzare ovviamente una cosa intelligente arriva con salva punta anche numero di serie non c'è nessuna carta niente il manico non è male sembra anche abbastanza niente vediamo questo super tagliente ma neanche male vediamo quanto pesa 169 grammi vediamo un po di misure di darvi manico bene grosso perché fa 3 cm di spessore 12 di lunghezza e andiamo a far 14 cm non è niente male anzi si sente molto bene in mano finitura ok è quella che è ma sappiamo anche il prezzo leggerissimo veramente leggerissimo vedremo se saprà fare il suo lavoro se sono un rivetto che lo tiene sul manico vedete ma molto molto carino da vedersi così colombia 6 molto carino bene tanto questo unboxing scrivetemi domande commenti che vediamo mi rispondo più presto possibile ok ciao ragazzi grazie 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 a tutti.